E' stato un successo l'appuntamento culturale del 26 gennaio scorso tenutosi presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Santa Maria Capoavetere, diretto dalla professoressa Silvana Decato e programmato nell'ambito delle attività dell'anno accademico dell'Università della Terza Età, presieduto dal professor Pasquale Rienzo con la direzione dei corsi del dottor Gennaro Stanislao. Un anno accademico dedicato quest'anno al Regno Borbonico che si sta sviluppando con una serie di appuntamenti culturali, come ci spiega il professor Pasquale Rienzo. In realtà quest'anno abbiamo improntato un programma su 700 napoletano, ricorrendo il 300esimo anniversario della nascita di Carlo III di Borbone, abbiamo impostato tutta una serie di lezioni che spaziano dalla storia all'architettura, al Grand Tour, a tante altre attività imperniate proprio sul 700 napoletano. Un Alexio Magistralis sui momenti più significativi del Regno Borbonico, tratta da un libro del decano dei penalisti campani, Giuseppe Garofalo, avvocato del Foro di Santa Maria Capovetere, scrittore e storico. Si tratta di un processo celebrato a Napoli ai primi del 1700 o alla metà del 1700 per un realto particolare, quello cioè della tossatura delle monete di oro, un realto per il quale è previsto la pena dei morti. Ci sono alcuni aspetti legislativi e giurisprudenziali che sono di grande attualità oggi. Per esempio, oggi si discute della esistenza più o meno del secondo binario di procedura. All'epoca esisteva istituzionalizzato il secondo binario, tant'è che questo processo fu fatto con una legislazione di secondo binario e con una procedura di secondo binario. Una giustizia già avanzata all'epoca, avvocato? Su questo piano molto avanzato, tanto è vero che in epilogo verso la fine del libro, vi è un intervento della Camera di San Dajano, cioè il più alto tribunale napoletano, il quale, sorpassando su tutte le leggi, stabilì che l'imputato poteva fare ricorso contro le condanne ingiuste anche se fossero state esaurite tutte le regole di procedura. Il suo diritto non si prescriveva mai. A declamare una significativa pagina del volume è stato il giovane attore sammaritano Francesco Russo, allievo dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, premio SIAE e attualmente nel cast della sitcom Zio Gianni in onda su Rai 2. Attrappato alle sbarre sentiva che qualcosa non andava. Tra quelli che invocavano pietà e misericordia c'era anche il giudice Baldassarre Cito che dello sventurato Maccaronaro Carmine Vigliante non aveva avuto né pietà né misericordia e lo aveva consegnato al Boia. Anche lui lì, nella processione, a chiedere pietà e misericordia. E c'era anche il caporota per Tuzzi e lo scrivano Casarano che chiedevano a Dio per loro quello che essi avrebbero potuto dare a lui e che non avevano dato. Quel brevissimo periodo del 1799 che ha visto cadere i borboni e andare al potere questi intellettuali comunque di ispirazione illuminista. Sicuramente sono molto affascinato da come la gente si rapportava alla cultura all'epoca che è una cosa molto interessante che fa appunto anche petito. Scegliendo di morire per sentenza di giudice, Gesù aveva legittimato, anche se parlace, la giustizia dei uomini. Replica della critica. Gesù aveva scelto di morire innocente per mano di giudici per dire quanto fosse inarbitabile la giustizia umana. E invece starace continuava a pregare e sperare nella pietà e nella misericordia. Non di Dio, ma del tribunale, perché quella gli serviva con più urgenza.